in ginocchio ok, avanti tagliala tagliala, facciamolo ce li abbiamo in puglio magari c'erano le scale più affilate da qualche altra parte siamo ladri abbiamo aiutato la persona sbagliata a rubare la cosa sbagliata e abbiamo scatenato il male più grande che il mondo abbia conosciuto i maghi russi hanno creato un esercito di non morti un posto bellissimo direi il contrario lo so, veramente ero ironico trovo che l'ironia sia una lama che colpisce maggiormente chi la brandisce non ti ammazzi di risate, vero? come ci entriamo là dentro? abbiamo bisogno di una squadra seguitemi all'orificio l'orificio? io vado per ultimo niente male mancati ah, questo non è buono non ti sei stufato a fallire? potremmo morire c'è di peggio della morte ho perso tutto ciò che era importante per me se rinuncio ora sarà stato tutto inutile non voglio vederti morire motivo per cui uscirò da questa stanza ora sarà la fine ora sarà la fine torrete! il ponte è protetto da un'antica trappola agnomica non dobbiamo far scattare il meccanismo forse ho messo il piede sul io scusate che è appena che è passato a fallire è passato a fallire non dobbiamo far scattare il mio non dobbiamo far scattare il mio Grazie a tutti.